Oltre 150 i poliziotti in azione per il maxi blitz antidroga scattato in mattinata coordinato dalla Procura della Repubblica di Campobasso. L'operazione coinvolge anche la provincia di Foggia, Chieti, Bologna e Caserta. Un maxi blitz scattato a conclusione di sei mesi di indagine sul flusso di sostanze stupefacenti cocaina, crack, eroina, hashish, marijuana e metadone provenienti dalle attivissime province di Caserta, Foggia e Napoli. L'operazione denominata Pinocchio ha portato all'arresto di una decina di persone ed il sequestro di grossi quantitativi di sostanza stupefacente. L'attività con l'esecuzione di sei misure cautelari ed oltre 70 perquisizioni personali e domiciliari ha consentito di smantellare in poco più di sei mesi di indagine un vasto mercato di droga proveniente dalle zone del Foggiano, Casertano e Napoletano. I dettagli sono stati resi noti questa mattina durante una conferenza stampa. Grazie. 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 Grazie.